ciao questo è il solito video che faccio sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare che mi sono mi sono andato a vedere questo film che si chiama lunely planet che nuovo come film che è uscito quest'anno che 21 e 35 quasi quei 94 minuti che il solito film americano come si dice che come genere parla il genere ritocca ma re tra drammatico e sentimentale che magari come si dice che ho visto che come film quello che ho capito io lo hanno messo direttamente ma e sulle solite piattaforme piattaforme a posto di passare mai prima dal cinema che la parte della della regia della regia il regista dei film e susanna gente che magari come al solito morai e solito morai film che magari deve piacere questo genere qua che più che altro è la solita romanziera solitaria che partecipa a un prestigioso ritiro per scrittori in marocco sperando che la location suggestiva possa aiutarla superare il suo blocco creativo che durante il soggiorno incontra un nuovo un uomo più giovane ma quella che nasce come una semplice ma riconoscenza si trasforma a un in questa inebriate ma re storia d'amore che le cambia più che altro la vita che ma morai la trama un po sempliciotta che mai non può morai prendere così tanto morai pubblico persone che lo possono andare a vedere però visto che sono riuscito a vederlo gli volevo dedicare questo video come al solito sul mio canale che parla più che altro di catering che come si dice a farla breve magari la trama che questa autrice solitaria che dice decide di unirsi a un ritiro per scrittori in marocco nella speranza di finire il suo ultimo libro che li conosce proprio owen un uomo è molto più giovane di lei che è venuto a ritiro insieme alla fidanzata che i suoi e che i due intraprendono questa relazione che ha concentrato magari più che altro su questo su questo il film che come stavo dicendo che magari come stavo dicendo prima magari non può prendere così magari tante persone come film che può essere un po magari banale sempre 18 come film e poi li volevo dedicare lo stesso un video sul sul mio canale che come al solito vorrei vi metto tutte le informazioni sul film e tra il cast video trailer come al solito e tutte le informazioni che riesco a trovare ve li metto mai tutto sotto in descrizione che essendo magari anche americano come film e degli stati uniti ho visto magari anche attori conosciuti che ho già provato magari a vedere in altri film che logicamente magari già un paio di mesi fa il mese scorso avevo già fatto uscire i primi videotrailer del film dopo essendo nuovo magari c'è qualcuno che morello può andare a recuperarselo come film nel guardare dopo essendo che magari lo si può trovare magari anche sulle solite piattaforme magari per qualcuno vorrei può essere magari essendo mai gratis come film se lo può morire anche va come si dice solo può andarselo anche a guardare come film che come stavo dicendo magari vi lascio tutte le informazioni magari sotto in descrizione come faccio di solito che ci sono degli attori magari li conoscevo già da parte mia e niente che magari quello che poterò morire dire su questo film magari l'ho già detta al massimo ci vediamo magari sicuramente magari più avanti con i miei soliti magari video che porto che porto sul mio canale che quello che poterò dire su questo film l'ho già detta che trovate al massimo tutte le informazioni sotto in descrizione e niente per adesso vorrei vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao